buonasera pensavate che stasera non ci fossi stato no invece sono qui aspettiamo come sempre ve lo devo ciao lorenzo allora 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 si abbondantemente numero legale raggiunto siamo 200 allora cos'è il punto stasera veramente non mi viene neanche tanta più voglia di parlare di mess perché tanto avete le cose sono abbastanza chiare avete visto no vale a dire il il gruppo di lavoro quello dove io ho chiesto chi diamine che ci va per l'italia con quale mandato e cose di questo tipo sappiamo un nome noto ex centrocampista del milano non è lui ovviamente un omonimo vale a dire rivera non sappiamo gli altri sappiamo che non ci sono politici che partecipano a questo gruppo di lavoro al contrario degli altri paesi cosa piuttosto grave perché non si capisce con che mandato non si capisce perché questi stanno mettendo assieme le proposte che poi verranno messe sotto il naso ai ministri al loro gruppo perché funziona così è evidente che i ministri non si mettono lì a ragionare sulle parole i ministri alla fine mettono un timbro quindi c'è tutta una sequenza di timbre ci sono sotto una serie di criceti no che lavorano scrivono fanno fanno le robe disfano e così via no poi questi funzionari alti funzionari e così via del high level working group dicono che va bene questa qui è la scelta siamo tutti d'accordo su questo sì siamo tutti d'accordo dopodiché vengono messe sotto il naso ai ministri i quali puoi immaginare no Gualtieri che lo metti lì a scrivere su o a cambiare gli articoli o le cose non sa niente alla fine gli altri ministri prendono mettono il timbrone una volta che è tutto timbrato poi va per l'approvazione ai capi pure lo sternuto sempre qua in un angolo a prendere freddo anche oggi il panorama è grazie il panorama è bello ma vi posso assicurare che la temperatura è bassa allora a quel punto che cosa succede succede che come da notizie di stampa questo brillante high level working group e così e così questo tipo nessuno si sia opposto all'utilizzo del mess le possibilità come ho detto stamattina sono solo tre e questo lo possiamo sapere con certezza dalla lettera quindi non dall'intervista che può essere fraintesa dalla lettera scritta da conte su repubblica conte ha detto non bisogna usare il mess non bisogna usare i vecchi strumenti e sono molto deluso da quello che è venuto fuori da dalla level working group bene dato che però nella level working group c'è un italiano e dato che non viene registrato nessun ribaltamento del tavolo nessuna uscita di protesta o nessun no nessun veto così questo tipo le possibilità sono due o i nostri tre o i nostri rappresentanti ai della level working group nonostante abbiano avuto il mandato di andare là e dire mess l'italia non lo farà mai hanno detto ma no sì sì mess mess perché magari uno di questi vuole o pensa di chiudere la sua carriera nel board del mess per esempio o cose di questo tipo beh allora se questo mi spiace siamo nella fattispecie da codice penale vale a dire infedeltà in affari di stato il governo ti dà un mandato tu quando vai là con il mandato del tuo governo non lo segui fino a cinque anni di galera prima possibilità seconda possibilità conte ci racconta una marea di balle possibilissimo tenuto presente che io so che l'essere è un mentitore seriale quindi fa tutta la scena di quello che si sta che combatte contro il mess e così questo tipo ma alla fine quando angelona nelle parole che lui non si ricordava invece gli ha detto guarda che tanto il mess te lo devi te lo devi prendere e lui ha detto e vabbè ce lo prenderemo adesso troviamo una maniera per far fessi 60 milioni di italiani quindi correttamente si comporta il nostro rappresentante inter e level working group perché la il presidente del consiglio per tramite del ministro del dell'economia gli dà esattamente quel mandato lì vale a dire cerca di chiudi per il mess e intanto a noi va bene così terza possibilità conte è sincero e dice io il mess non lo voglio perché se no paura che il cinque stelle ho paura che mi dicono e gualtieri invece se ne frega di quello che gli dice conte e dà correttamente istruzioni dal suo punto di vista a rivera e gli altri da level working group per procedere col mess nel qual caso è evidente che gualtieri deve essere sfiduciato ma dovrebbero essere prima loro a farlo rispetto a noi perché significa che è molto palese che non fa il contrario di quello che gli si viene gli viene chiesto di fare cosa anche questa tutto sommato plausibile perché sappiamo benissimo a chi risponde gualtieri e a chi pensa di dover rendere conto non certo l'italia ma l'unione europea che è quella che gli ha sempre messo la pappa nella ciotola quindi sono tre cose tutto sommato possibili ma tutte e tre in una maniera o nell'altra non si scappa al di fuori di queste tre possibilità qualora sia confermato tutto quello che esce dalla stampa di possibilità non ce ne sono e uno dei tre deve saltare o salta rivera o salta gualtieri o salta conte tutte e tre non è possibile che che stiano perché evidentemente uno uno mente e la cosa è piuttosto piuttosto chiara fraccaro buffagni fraccaro buffagni i crimi sono assolutamente informati non possono dire di non saperlo le agenzie le leggono anche le leggono anche loro per cui spetta loro ripeto noi l'appoggio gliel'ho potuto dare in tutte le maniere dicendo che ovviamente non ci tireremo indietro per eventuali emozioni di sfiducia e magari chissà dovremmo adesso dovremmo pensarci anche unilaterale poi vedremo che diamine che diamine succede perché l'importante è che il martedì non accada che l'euro gruppo dia l'ok cioè l'unica cosa che può succedere martedì è che entra il nostro ministro e dice avete perso del gran tempo perché l'italia il mess anche con le condizionalità light anche senza condizionalità o cose di questo tipo il mess non si usa per tutti i motivi che abbiamo detto e tra parentesi vorrei dire ricordare anche una volta che non vanno bene neanche il sure sure quel cavolo che è che è una presa in giro enorme e nonostante quel poverello di feltri che dice oh ma non hai capito non sono le garanze non sono dei versamenti che l'italia deve fare no a questo famigerato fantomatico sure sono delle garanzie certo la garanzia illiquida la garanzia deve essere irrevocabile liquida e a prima richiesta voi vedete un po voi se non è la stessa cosa di un versamento cioè io mi impegno irrevocabilmente a prima richiesta a depositare soldi liquidi che possono essere prelevati da questo fondo ah ma borghi mente perché in realtà non è un versamento è una garanzia vedi tu cosa può essere quindi sono tutte cose enormi di cui normalmente dovrebbe parlarne il Parlamento perché non per cortesia ma perché c'è una legge che dice che ciò deve avvenire cioè questi non possono andare in Europa e decidere il cavolo che vogliono non possono neanche trincerarsi dietro come ogni tanto ho sentito anche qualcuno dice ah beh ma se questi poi fanno questa follia di chiederlo poi quando arrivano in Parlamento no non poi dovresti discuterne prima in Parlamento perché c'è una legge la 234 che dice che devi farlo ha già scritto Bagnai insieme con tutte e quattro i presidenti di commissione niente oggi se ne è parlato in commissione finanza niente di questo tipo ho scritto a fico io purtroppo uno dice scrivi a fico che roba è lo so ma formalmente io in quanto presidente di commissione non posso scrivere ciao sono presidente di commissione in quanto presidente di commissione scrivo a Mattarella no perché le commissioni sono all'interno della Camera quindi io devo scrivere al presidente della Camera quindi è quello che ho fatto ho scritto carta e penna così almeno lasciamo scritto per vedere che se le cose poi in futuro perché io lo so eh se tu non scrivi tutto poi nonostante mille dichiarazioni mille dirette mille conferenze stampa arriverà Conte e dirà io pensavo che non era così guarda nella riga 3 del foglio 4 del 1812 c'era scritto che in realtà il MES quindi in una maniera o nell'altra io lascio traccia per capire che le cose non vanno perché per legge il governo prima di chiudere o trattare anche solo modificare questioni economiche deve presentarsi in Parlamento dove ci deve essere un indirizzo perché altrimenti con che mandato il governo agisce per cui i punti sono ormai sono chiari sono messi giù squadernati io spero sempre che la cosa si concluda bene che i grillini mi possono dire guarda Borghi hai fatto tutte le dirette per nulla perché hai visto che grazie a noi bene benissimo benissimo non sono mai per nulla perché la pressione la sentono e la sentono e come ma se questa cosa si risolve nell'unica maniera che si può risolvere vale a dire con semplici emissioni di titoli raccolti o dai risparmiatori italiani o dalla BCE per finanziare tutto quello che serve e serve e serve in fretta e c'è la gente che continua ancora adesso a non avere lo stipendio e non avere i soldi perché tutta questa storia qua non è che la facciamo scusate è giusto perché magari poi qualcuno annebbiato dal contingente perde di vista il punto non è che questa roba qua la facciamo perché è una nostra fissa dal punto di vista economico che a noi piace di più così piuttosto che cosa questa cosa qua la facciamo perché serve per dare i soldi alla gente e in questo momento c'è tanta gente senza soldi tante ditte che sono lì per chiudere e non si capisce che cosa si aspetta o meglio si sa che cosa si aspetta si aspetta che il nostro brillante Gualtieri alla fine ci leghi le mani definitivamente con il MES quindi questo è il quadretto sul MES lo sapete l'avete visto ve l'ho detto è inutile che ve lo ripeto state vedendo gli aggiornamenti di giorno in giorno però invece io vorrei adesso fare un'altra di quelle cose che avevo iniziato a fare ieri vale a dire e stiamo facendo tutto il possibile scusate questo perché magari ogni tanto c'è il questista fate qualche cosa fate allora mi pare evidente che tutto quello che si può fare ci sono anche tante cose che non vi posso dire ovviamente ovviamente con cui ci stiamo ci stiamo muovendo tutto quello che possiamo fare lo facciamo se voi mi dite che è una figata prendere e correre con la bottiglia dell'alcol a dargli fuoco davanti al Quirinale non avete capito niente si passa per il pazzo il criminale il cretino e così questo tipo avete visto ieri il goffo tentativo di farmi passare per boh filo nazista filo fascista non si sa che cosa semplicemente perché ho evidenziato la propaganda immaginate cosa farebbero se prendo e parto per per darmi fuoco davanti al Quirinale verrebbe fuori nelle notizie divertenti del Corriere vedete poi c'è sta stopirla che si è dato fuoco di questo tipo quindi cari qualcosisti lo so che siete animati da buone intenzioni ma se vi diciamo che non è perché non convocate il Parlamento dato che basta un terzo dei cosi ma perché è già convocato non è problema convocare il Parlamento c'è è aperto in questo momento il Senato stanno discutendo sugli emendamenti segnalati del decreto del primo decreto cura Italia il problema è di che cosa dici in Parlamento non se lo convochi o non lo o non lo convochi quindi vedete un po' e ha sentito Calenda si Calenda conta tantissimo l'uomo l'uomo che scriveva i tedeschi vabbè comunque volevo dire se no persi nei ragionamenti andiamo via rispetto a quello che invece volevo dirvi ed è importante vale a dire ragioniamo sul dopo tutti io adesso sto guardando articoli scritti da tutte le parti negli Stati Uniti in Inghilterra e così via dove in tanti stanno ragionando sul dopo il dopo che cosa che cosa dice il dopo quasi tutti si sono incredibilmente accorti che questo sistema ha qualche problemuccio no dice eh guarda noi eravamo abituati col sistema delle global supply chain no tutto scritto tutto attaccato dove significa che la vite la facevi in Indonesia e la l'impugnatura la facevi la facevi in Polonia il cavolo facevi in Corea no tutto dove costava di meno farlo e così questo tipo così facendo ottenevi il massimo eh ottenevi il massimo ottenevi innanzitutto la deflazione perché appunto gli oggetti costavano sempre di meno e quindi sembra un vantaggio no diceva che bello gli oggetti costano sempre di meno bello peccato che dall'altra parte costava sempre di meno anche il lavoro e anche gli stipendi perché il sistema delle global supply chain dice una semplice cosa che si va a produrre dove il lavoro costa di meno ok quindi questo bel sistema tutto aperto senza limiti senza confini no e cose di questo tipo è esattamente il sistema che porta a la competizione salariale da qualsiasi parte ci sia qualcuno che costa di meno di te come lavoratore ecco che io che posso gestire la produzione in giro per il mondo quello lo faccio e attenzione questo veniva fatto anche con stabilimenti fabbriche che erano inutile perché quante volte avete sentito ma la società multinazionale XYZ chiude la fabbrica di Urbino chiude la fabbrica che pure era inutile certo era inutile sì sì era profittevole si poteva assolutamente andare avanti ma loro facendo una bella riunioncina hanno detto se quella stessa cosa che viene fatta Urbino io la faccio a Wuhan l'utile è maggiore e quindi si migliorava l'utile questo è tutto il mondo adesso ho capito che c'è un piccolo problema con questo sistema perché se per caso succede qualcosa a Wuhan o se succede qualcosa da un'altra parte ti trovi nell'allegro caso in cui te le mascherine quindi non la bomba atomica no ma le mascherine non riesci non riesci a farle in casa tua cos'è la conseguenza di questo svegliarsi e dire ah forse bisogna ritornare a fare bisogna inserire dentro nei miei modelli no per valutare come rendere profittevole o meno la produzione di qualcosa devo inserire dentro nei miei modelli il fattore di rischio quindi il fatto che caspita potrebbe essere disastroso il fatto che boh c'è una rivoluzione c'è un cambio c'è una malattia un'epidemia no così di questo tipo e quindi il fatto di non avere in casa la produzione delle cose di non riuscire a gestire il trasporto mi crea dei problemi con dei costi che alla fine sono 100 per aver risparmiato 10 sul costo del lavoro e quindi devo pensare di ridurre queste catene di produrre più vicino di essere più locale no così di questo tipo bene ottimo ma e qui c'è un ma grosso come una casa forse qualcuno può pensare che un sistema più sensato vale a dire quello più locale quello dove si produce più vicino a casa quello dove la produzione è in casa possa stare in piedi senza la moneta eh cari miei perché il punto è sempre quello ma voi cosa credete che voi potete permettervi di fare le mascherine a vercelli che saranno fuori mercato rispetto a quelle prodotte a WAN o anche solo a quelle prodotte magari ad acquisgrana la moneta serve a qualcosa serve esattamente a compensare queste differenze infatti il sistema di prima quello che forse ci piaceva un po' di più perché il mondo del futuro potrebbe forse essere un po' quello del passato che era un po' meglio comportava che tu lavoravi qui la fabbrica mio padre lavorava la Pirelli e la fabbrica delle gomme era qui della Pirelli e non dovevi avere paura della concorrenza cinese che poi adesso si è comprata la Pirelli guarda caso perché perché molto banalmente la tua moneta rendeva la produzione nazionale conveniente sui mercati mondiali così era Dazzi Dazzi quindi evitare tutto quel casino del VTO voi vi ricordate un gufi del VTO Dazzi per evitare concorrenze strane e cambio flessibile senza queste cose senza i Dazzi e senza il cambio flessibile non vai da nessuna parte è da cretinata pensare che si possa stare all'interno della monetona e fare delle cose che siano competitive saranno fuori mercato molto banalmente allora il sistema degli ultimi vent'anni quello che tutti si stanno rendendo conto quello della globalizzazione che tutti si stanno rendendo conto che era una cretinata era il sistema della monetona della global supply chain dove ma chi se ne frega dell'euro della liretta perché io tanto produco qui che poi dopo produco là e così via metto tutto assieme anzi se ci fosse la monetona mondiale faccio prima sì certo da parte tua proprietario della multinazionale poi chi se ne frega se andava tutto a remengo e chi se ne frega se andava a remengo anche la sicurezza degli stati viceversa se noi diciamo che questo modello non si può andare non puoi smontare il modello della global supply chain se non smonti anche la monetona perché se vuoi riportare le produzioni in Italia non puoi pensare di non avere uno strumento di regolazione dei tuoi prezzi nei confronti dei prezzi degli altri paesi derivanti dalla simpatica legge della domanda e dell'offerta per cui cominciamo alla fine arriveranno anche lì arriveranno anche lì ci siamo? ci siamo? cioè non mi sembra di dire delle cose particolarmente assurde se siamo d'accordo che è un sistema del piffero quello globalizzato allora bisogna tornare a quello precedente e se torni a quello precedente ci torni con tutte le tue belle cosette ci torni con un po' di iri quindi ci torni con un po' di intervento statale ci torni con la tua moneta e vedi che a quel punto poi puoi anche abbandonare tutta una serie di incubi che hanno ammorbato un'intera generazione come il precariato l'incertezza sul futuro la fabbrica che chiudeva dal mattino alla sera e così via il beilin ricorderemo spero questi vent'anni come un incubo di un sistema totalmente sballato come può essere stato certi esperimenti che sono stati fatti nel passato il tra parentesi chiudo sempre per dire tutte le cose che magari avevo detto io che stanno arrivando tac 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 no proprio come una dopo l'altra come le caselline come le tesserine del domino guarda caso oggi fanno i servizi su un comune che ha deciso di stampare i buoni pasto simil banconote in modo tale che possano circolare ma che bella idea ci fossero stampati i minibot ma quanto si potevano gestire più tranquillamente queste situazioni prendevi distribuzione di minibot ai cittadini che con questi ci potevano fare la spesa è un credito fiscale lo stato lo accettava non avete voluto farlo ridevate tria rivera che era sempre lui un altro che quando si si parlava di minibot l'europa ci siamo andati dal governo perché non ci facevano fare queste cose tutte queste cose che erano necessarie per farle però noi una visione ce l'avevamo noi una visione ce l'avevamo evidentemente qualcun altro aveva delle altre visioni prioritarie che in questo momento sembrano così lontane tagliare i parlamentari lo spazzacorrotti la prescrizione queste erano le priorità dei nostri dei nostri alleati quando si poteva cambiare il mondo e fare delle cose un po' più importanti perché era questione di sicurezza nazionale era questione di avere una ruota di scorta andatevi a vedere le mie interviste quando dicevo un sistema alternativo dei pagamenti che è sempre opportuno avercelo siamo ancora in tempo forse però in ogni caso capite quanto e che peccato è stato non ascoltare le idee di questo poveretto qua in in lockdown sul lago di Fomo grazie a tutti Grazie.